Il momento del capitano, del tipo di oro, con il live 3-10! Il momento del capitano, del tipo di oro, con il tipo di oro, con il tipo di oro. Il momento del capitano, del tipo di oro, con il tipo di oro. Il momento del capitano, del tipo di oro, con il tipo di oro. Il momento del capitano, del tipo di oro. Il momento del capitano, del tipo di oro. Il momento del capitano, del tipo di oro.